Come mai una persona dovrebbe venire da Varese? Tu come mai sei venuta a Varese oggi? Per fare un giro al mercato? E pensi che ci sia qualcosa di interessante oltre... No, sinceramente no! Vengo da Busto! Vieni da Busto, vabbè, quindi c'è più roba qua di Busto o c'è trovi delle differenze? Meglio Busto! Vieni qui stesso o no? No, oggi sono venuta perché non lavorano! E non lo so, qui cosa fa, esce a mangiare... Si, è andata a mangiare e poi Varese è carina però è peggiorata negli anni, ti posso dirlo. Si? Cosa trova di diverso, non vengono? C'è poca gente, non mi piacciono più i negozi, non mi piace più il centro, è un po' più curata. Ah, è decaduta quindi? È decaduta, io l'adoravo, Varese. Sono venuta in cerca di lavoro, credo che sono arrivata a Ferrafaglio perché avevo un amica qua, che mi ha chiamato. Sono arrivata prima a Torino perché avevo un figlio a Torino. Ah, poi sono arrivata qua, ho lavorato dieci anni e questa è la mia storia. E lei consiglierebbe a qualche sua amica di venire qua? A qualche. Le piace? Le piace? Cosa preferisce di Varese? Ah, a me le piace, mi piace Italia, mi piacciono le canzoni, mi piace la lingua, mi piace tutto. Consiglierebbe Varese a qualche suo conoscente o... Assolutamente sì, ho amici che invito da Milano appositamente per conoscere Varese, per girare, per vederle le qualità da un punto di vista culturale e da un punto di vista anche della città, di quello che la prevede. Si gira bene in centro, a piedi. Grazie mille, era solo questo. Prego. Cosa che è la più finita, anche con la Rese? Mi è sempre piaciuta e mi piace la sì. Per quale motivo? È una città portata a Duomo, dove effettivamente si sta bene. C'è un contatto diretto con la gente, non con una grande città, ma una città di un pareson, che abbiamo detto che è l'ideale. C'è qualcosa in particolare in questa città che pare che le piaccia, che consiglierebbe sempre le turistiche che ne hanno fuori o ne sono in giro? E' di quotidiano, giardini nostre stessi, nella panza abbiamo due posti nuovi. Ci hai detto che sei di qua di Varese, ma a cosa ti piace particolarmente la città? Cosa consiglierai a te e a altri tuoi amici che vengono da fuori? Beh, i miei amici che vengono da fuori di solito li porto al Twiggy. E lì, insomma, è un bel locale, solitamente c'è musica dal vivo. Adesso è un po', purtroppo, influenzato dal fatto che, insomma, dopo una certa ora non si può fare tanto casino. Quindi la musica non può andare avanti più di tanto e io essendo musicista, tra l'altro, mi duele un po'. Però, sì, tendenzialmente io vado al Twiggy, se no, se si esce un attimo da Varese, ci sono anche delle serate interessanti. Per esempio, penso al This is Not, quindi con musica elettronica e ballare. Se no... Invece a livello di monumenti, luoghi di interesse... Invece a livello di monumenti, cioè, io ho passato gran parte della mia adolescenza a Sacromonte, non per la mia, diciamo, spiritualità, ma proprio a livello di posti, di panorami e una figlia di... E... che altro? Beh, la schianna, insomma. Io a me piace molto la natura, personalmente. A livello di monumenti, penso alla Torre di Velate, ad esempio. Ok, va bene.